E adesso è il momento di Isabel De Maria, Isabel cosa è? Anche Isabel devo dire che l'ho trovata cresciutissima, ho lasciato bambina e ti ritrovo ragazza ormai, sei bellissima Isabel. Allora Isabel è sorda e il grande amore che Salvo e Isabel hanno unito insieme la passione per riuscire nell'obiettivo è stato tanto che hanno raggiunto un risultato forse isperato e fortemente voluto e che ha stupito ed emozionato tutti. Isabel, quanti anni hai tu? 14 anni. 14 anni. 14 anni e che scuola? La terza media? Media. Superiore. Già le superiori, che scuola hai scelto? Mette l'arte in fungo. Allora, la tua vita è fatta di arte, eh? Allora esprimiti attraverso la musica, attraverso i tuoi disegni. Allora stasera ci presenti un pezzo di Stephen Schlaggs che si intitola, non me lo ricordo più, Destiny's, giusto? Ecco, su Schlaggs sono manufettate, Salvo, mi puoi anche pacchettarsi. Schlaggs, mi manca Isabel Stanziano, sei pronta? Ok. Signori e signori, Isabel Stanziano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.